ciao a tutti e bentornati sul canale del garante in questo nuovo video che riguarda excel andiamo a vedere come cancellare delle celle vuote vi farò vedere poi un esempio pratico di quanto è importante questo comando andando a fare un'operazione con tantissimi numeri migliaia di numeri in questo caso un esempio molto semplice può essere quello di un elenco di numeri in cui ci sono delle celle vuote e voi per esempio queste celle vuote non le volete perché volete compattare tutto allora che potete fare potete cliccare per esempio con control su tutte queste celle qui ed eliminarle benissimo questo potete farlo quindi vi faccio vedere come fare control tenete pigiato mentre selezionate control vedete cliccate col tasto destro elimina sposta le celle in alto benissimo e questo è il comando abbastanza semplice una cosa automatica che appunto è molto utile se avete tantissimi numeri è quella di selezionare tutti i dati andare su trova e seleziona vai a formato speciale celle vuote ok in questo caso il comando trova e seleziona ha selezionato solamente le celle vuote voi cliccate su elimina e le spostate in alto vedete se voi cliccate control z cliccate col tasto destro elimina potete eliminare la riga intera la colonna intera o spostare le celle a sinistra vediamo se eliminiamo la riga intera per esempio sembra non essere cambiato niente però in realtà excel ha eliminato tutta la riga e non solo queste celle qui quindi il nostro comando utile in questo caso quale trova e seleziona vai a formato speciale celle vuote ok benissimo quindi questo è un caso semplice vi faccio vedere un caso molto non complicato ma molto grande a livello di numeri quindi noi abbiamo in questo caso una lista di valori come vedete sono tantissimi e vi faccio vedere quante righe ci sono in questo file vedete arriviamo fino a 25603 righe sono tantissimi numeri in questo caso ho risolto questo problema diciamo questa cosa attraverso questo comando qui che vi faccio vedere vi ho già fatto vedere elimina celle perché appunto a me servivano solamente i valori per esempio 0 1 2 e non mi servivano i valori intermedi quindi io o andavo a cancellare tutti questi dati a mano vedete andando così cliccando su cance oppure ho detto no ci deve essere una strada più veloce e quella che ho trovato è quella che vi farò vedere adesso quindi intanto mi appoggio qui clicco uguale a 0 invio e voglio tutta questa riga di valori quindi trascino fino a x in questo caso perché l'ultimo valore qui il valore più a destra vedete cliccando due volte vedete il collegamento a questo punto io voglio anche 1 2 3 però viene fatto 255 volte ed è una cosa lunga quindi cerchiamo di velocizzarla premiamo ctrl e in basso e qui ci scriviamo 1 ci scriviamo 1 perché questo ci servirà come punto di appoggio quando andremo a fare il procedimento che vi farò vedere quindi se voi premete ctrl e freccia in basso vedete in automatico vi si ferma al valore 1 quindi ci serve essenzialmente questo questo scalino in cui si può fermare clicchiamo ctrl freccia in alto come vedete siamo a 0 quindi io che cosa faccio adesso seleziono tutte queste righe fino alla 0 99 ctrl c e clicco ctrl v come vedete mi ha replicato tutto quindi questa riga è stata incollata come la riga col valore 0 quindi tutti questi valori sono dei riferimenti quindi se io lo voglio fare però per tutti questi valori fino in fondo che cosa devo fare vado fino a qui ctrl c clicco poi ctrl shift oppure maiuscolo freccia destra freccia in basso come vedete adesso ho evidenziato tutte le righe fino alla 25603 clicco ctrl v e per verifica vado a vedere che siano state fatte tutte queste righe vedete riga col valore 2 riga col valore 3 riga col valore 4 se il video ti è piaciuto lascia un mi piace oppure iscriviti al canale cliccando su iscriviti sulla campanella e su tutte ti arriverà una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video buona visione proviamo a spostarci in basso ctrl freccia in basso e ci siamo vedete in questo caso è andato via anche l'uno perché appunto ne abbiamo incollato il valore che non aveva nulla in quella cella e qui abbiamo la 255 bene adesso però vogliamo compattare questa lista quindi eliminare le celle vuote ora noi possiamo o fare così e quindi selezionare tutto ma vedete quanto va lento excel quindi adesso vi farò vedere un metodo molto veloce per selezionare migliaia di caselle qui ci spostiamo con ctrl freccia in alto nella casella in basso a destra quindi diciamo che è il punto più in basso a destra che noi dobbiamo selezionare ed è la cella x25504 premo ctrl c vado in cima quindi mi sono copiato il valore di questa cella seleziono la cella più in alto a sinistra che è in posizione m4 quindi clicco qui dentro ctrl v ci incollo la mia cella x25504 premo shift o maiuscolo appunto e clicco invio come vedete in questo caso sono state selezionate tutte le celle che si trovano tra m4 e la mia x25504 vedete tutti questi valori sono stati selezionati a questo punto che cosa faccio vado in alto trova e seleziona vai a formato speciale celle vuote clicco su ok vedete excel in questo caso ci mette un pochino perché sono circa 25.000 righe e chiaramente per selezionarle tutte un pochino ci vuole a questo punto una volta che sono selezionate tutte lo vedete perché vi deseleziona questo e per verifica vedete anche la 1 e la 2 cliccate col tasto destro elimina sposta le celle in alto ok e a questo punto vedete che vi compatterà tutte queste righe cosa importante è che c'è rimasto il riferimento quindi se voi cliccate due volte all'interno di questa cella e andate giù a vedere il riferimento c'è ancora quindi se questo dovesse cambiare per esempio perché ci mettete dei nuovi dati qui facciamo conto che questo venga 12 120 andiamo a vedere che questo valore appunto si è aggiornato perché il collegamento è rimasto quindi clicchiamo su ctrl z e come potete vedere il valore è quello di prima quindi questa è una tabella che è stata compressa ed è rimasta comunque interattiva con questi valori qua quindi per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un mi piace oppure iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornato ogni volta che caricherò un nuovo video ciao a tutti alla prossima